Ciao a tutti, sono Federica, questo è il mio primissimo video che carico su Youtube, ho 23 anni, sono romagnola, mi pare anche che si senta, e vi volevo parlare un po' di quello che metterò nei miei prossimi video, ci saranno dei vlog, parlerò di telefilm, film, musica, libri, se ci sono anche dei libri che vi ispirano, se volete un po' sapere la trama, se magari lo letti, vi posso dire se mi piacciono o meno, ne possiamo parlare, anche di esperienze personali tipo esperienze colmorose, esperienze in famiglia, quello che vi è capitato, se volete, c'è una ragazza in più su Youtube, se volete scambiare quattro chiacchiere, se volete mettere mi piace, se no no, se volete anche condividere nelle vostre pagine il mio video, così almeno faccio un po' di pubblicità, sono abbastanza impacciata, cercate di capirmi, quindi sono un po'... niente, io mi sono presentata, se avete altre domande da farmi, sono qua, va bene, ciao!